ciao allora oggi vi voglio mostrare due acquistini che ho fatto da wish che secondo me sono carinissimi di cosa parlo? dei peluche di Pusheen allora intanto vi faccio vedere uno per volta prima di tutto prezzo 2 euro le peluche più 2 euro la spedizione quindi 4 euro ma avevo un gruppo d'acquisto quindi 1,80 euro al prodotto più comunque lo sconto del 10 quindi sono andata a pagarlo meno non ho fatto i conti adesso così però meno poi sono tutte e due originali Pusheen che in negozi andrebbero a costare una follia e poi ve li mostro perché sono davvero bellissimi allora il primo è questo che guardate anche quanto è grande perché è grande ed è morbidissimo allora c'è la sua ciambellina è fatto bene con ecco qua le sue ciglia c'è la sua ciambellina che è un donuts che è morbidino lui è meravigliosamente morbido ha le sue zampettine qua davanti eccole qui che carino poi dopo dietro ha la sua codina e le strisce perché è un gatto una gattina guardate è bellissima e poi è morbida è peluciosa è morbida è fatta bene è anche ricamata bene ha anche qua sopra le righine è bella per me è fatta molto bene e non contenta ovviamente non potevo prenderne solo una quindi ne ho presa un'altra allora in questo caso è sempre uguale però ha il biscottino e ha anche la faccia diversa esatto perché in questo sorride mentre in questo sta mangiando sempre con le sue i baffetti le cigliette non so lo sta tenendo in mano ha sempre le sue zampettine è sempre bella cicciosa sempre originale ovviamente solita coda solite righine dietro sono fatti bene benissimo li trovo anche belli morbidi e guardate che carini e poi è un prezzo che sinceramente in negozio ed è non si trova così poco adesso non ho fatti i conti posso anche farli con la paccolatrice però facciamoli allora abbiamo detto che l'ho pagato 1,80 euro posso farlo anche a mente veramente meno il 10 partito di spedizione sono 1,62 più 2 euro gli ho pagati 3,62 euro l'uno quindi direi che per 3,62 euro me li potevo anche permettere poi sono bellissimi cioè stanno sul mobile bella vista perché questi sono carinissimi era un video corto e veloce per farvi vedere solamente che cosa ho preso perché sono adorabili uh avevo preso anche un aspettate eccomi qui infatti mi ricordavo però e questo l'avevo preso nel periodo natalizio quindi non me lo ricordavo più guardate è un portamatite sempre di puchin questo l'ho pagato un euro il prodotto più un euro la spedizione non mi ricordo se avevo un gruppo d'acquisto comunque facciamo due euro meno di due euro è fatto così sempre pelucioso è bello grande perché dentro ho le biro quindi ci stanno le penne tranquillamente è sempre stampato stampato ricamato bene con le righine i suoi baffetti dietro è solo peluche ma non è disegnata e ha la codina che è anche la cerniera per aprirlo è bellino poi dopo ha le zampine questo non è originale non credo che sia originale o sì ma ho tolto l'etichetta non mi ricordo non mi ricordo perché era nel periodo natalizio oltretutto l'ho regalato anche a mia madre quindi e anche questo era carinissimo con la coda è carino e allora dunque questi erano tutti gli acquisti di puchin che ho fatto da wish e secondo me facendo dei belli affari perché mi sembrano fatti bene poi oltretutto loro stanno in piedi adesso non so come mettervele in piedi al solito posto non si vede? ok ok cioè sta in piedi da solo quindi io li ho messi sul mobile sono anche carinissimi ma sono belli e niente sto regredendo un bel po' comunque sia se vi piacciono questi prodotti se secondo voi sono carini oppure se vi ho tenuto solamente un po' di compagnia mi fare vi piacere mettete il mio like iscrivetevi al canale mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video delirio alla prossima ciao ciao